Quello che succede è che alcuni delinquenti entrano e vanno a spaccare poi le macchinette, quelle del caffè, cercando dei soldi che alla fine non ci sono, sono veramente pochi. Tant'è che il gestore ha dovuto togliere le macchinette. Il problema è che questi delinquenti entrano dal parco e poi per entrare nella struttura rompono le porte di sicurezza. A Venezia le spaccate colpiscono anche le proprietà comunali, come avviene con una certa costanza la piscina Costantino Reier al parco Groggia di Cannaregio. Quello del fine settimana è stato infatti solo l'ultimo di una serie di colpi dal bottino modesto, se non addirittura nullo, ma dai danni ingenti, sommando le diverse incursioni attorno ai 15.000 euro. Tanto che dopo una spaccata a dicembre la consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Wisman aveva portato il caso in comune. Avevo presentato una mozione proprio all'interno della sessione di bilancio, quando si sono svolte le votazioni per il documento unico di programmazione, dove la stessa amministrazione nelle linee guida parla di maggiori sicurezza in quei parchi dove si riscontrano criticità. Che fine ha fatto poi quella mozione? La mozione è stata bocciata con la motivazione che era tutto sotto controllo, che erano al corrente della situazione, quando invece l'altro ieri c'è stata questa ulteriore spaccata.